Lavori in corso questa mattina sul solarium dell'area di Santa Teresa dove anche nella giornata di ieri a causa di un asse in legno sollevato una donna si è ferita la testa. Un episodio ciclico che si ripete tra i tanti cittadini e turisti che affollano la spiaggia situata nel centro della città di Salerno e il frequentato solarium che anche di notte è pieno di ragazzi che lo utilizzano come punto di ritrovo. Oggi un intervento di somma urgenza del servizio manutenzione del comune di Salerno ma è evidente anche ad occhio nudo che in più punti il solarium andrebbe ripristinato in maniera strutturata e a chiederlo sono anche le tante persone che c'erano stamani. Bella zona e comunque è un peccato. Ieri una signora si è fatta male, c'era anche lei, ha visto? Sì, ho visto proprio qui, più o meno qui a un metro. Tutte queste tavole sollevate rappresentano un pericolo, anche occhio nudo si vede insomma. Sì, andrebbe fatta una manutenzione ordinaria, ecco se si vuole lasciare il legno. Altrimenti meglio il marmo. Allora essere preoccupati adesso è come quando un malato sta in agonia, sta per morire, tutti quanti si preoccupano, non c'è più niente da fare. Bisognava fare manutenzione a debito momento e trattare questo legno perché il legno è quello delle barche, quindi mandava trattato ripetutamente, se non ogni anno ma ogni due anni almeno. Ma è vero che capita spesso che le persone cadono e si fanno male? Ieri specialmente c'è stata una signora che si è fatta molto male, perciò oggi abbiamo l'interessamento comunale che ha mandato qualcuno, uno solo, poverino, che non ha nemmeno gli arnesi giusti, sta mettendo chiodi che si arrugineranno fra tre secondi appena una goccia d'acqua toccherà questo chiodo. E' in legno sotto e in marcio, quindi lo sta, come si suol dire, tra Natale e Santo Stefano si perde la cosa, così sarà. La manutenzione per tutta Salerno quasi, io abito a Via Monti e ci sono dei buchi che non si riescono ad aggiustare, non ho capito il perché, cioè proprio dei buchi che chissà fra quando qua a strada se ne cade, cioè ci vorrebbe un po' più di accortenza su certe cose. Da oggi, già da diversi anni, io ho visto in queste condizioni, con bullone alzate, cose che sono pericolose per le persone che possono ingiampare e cosa va. Effettivamente ci vuole manutenzione, ma non dico tanto, ma almeno due volte all'anno, sia per l'estate che per l'inverno. Poi le tavole sono tutte smosse, infatti alcuni giorni fa una ragazza cadde proprio per una tavola smossa, quindi anche fonte di pericolo pubblico, ne va per sotto la pubblica incolumità. Grazie.